Consiglio comunale, acceso dibattito sul riconoscimento del debito fuori bilancio della società ecologia Viterbo SRL. Proloco in attività, incontro con il presidente Giorgio Gianmaria. Ciao Claudio, ai funerali del maestro tantissima gente e tanta commozione. Ben trovati ad una nuova edizione del TG Magazine. Apriamo anche questa edizione come sempre con le notizie relative ai contagi nel comune di Orte. Alla data del 4 febbraio i positivi sono 376, mentre le persone negativizzate sono 862. Orte è in controtendenza rispetto al territorio viterbese dove i contagi invece sono in calo. Lunedì scorso si è tenuta la seduta del Consiglio comunale. Un consesso che ha sviluppato temi che hanno portato ad un acceso dibattito, soprattutto sul riconoscimento della spesa fuori bilancio verso la società ecologia Viterbo SRL. Sentiamo i particolari. Una seduta consigliare iniziata giustamente con l'omaggio a Claudio Guazzaroni e proseguita con toni che man mano si sono accesi. Il tema è stato il decreto ingiuntivo pervenuto al comune di Orte da parte della società ecologia di Viterbo relativo al conferimento dei rifiuti. La storia parte da lontano e riguarda un errato conteggio da parte della Regione Lazio sulle tariffe relative ai costi di smaltimento. I vari ricorsi prodotti della società ecologia, prima al Tarre e poi al Consiglio di Stato, hanno dato ragione a quest'ultima e così la società ha inviato ai comuni viterbesi che usufruiscono del servizio il salato conto. La cifra da quanto si è sentito in Consiglio ammonta 500.000 euro, una enormità per Orte che se pagata tutto insieme manderebbe in default il comune. Da quanto detto in Consiglio, il decreto ingiuntivo prodotto dalla società ecologia è di poco superiore a 100.000 euro. Questa somma, a detta dell'amministrazione, è stata concertata con la società e vede il pagamento di due anni. Il resto dell'importo sarà spalmato con poco più di 50.000 euro all'anno. Giuliani ha contestato all'amministrazione di non avere impugnato il decreto ingiuntivo, dicendo più volte che non possono essere i cittadini di Orte a dover pagare gli errori della regione, anche perché, a detta di Giuliani, la determina regionale prodotta non è un atto amministrativo valido in questo ambito e quindi non applicabile per i comuni. In pratica, sostiene Giuliani, la regione scarica sui comuni i propri errori. L'amministrazione sostiene che le tre comunicazioni arrivate al comune di Orte nei primi tre mesi del 2021, che invitavano l'amministrazione Giuliani a concordare un piano di rientro, sono state tenute nel cassetto, senza che l'amministrazione di Orizzonte Comune producesse un qualsiasi atto o azione o rispondesse alle missive inviate per controbattere quando andava profilandosi. L'amministrazione sostiene anche di aver verificato ogni possibilità per evitare il tutto, ribadendo che l'assenza di risposte da parte di Giuliani è stata la causa della situazione attuale. Fraticelli ha sostenuto invece che la vicenda vede responsabilità per entrambi, per Giuliani che non ha mosso paglia, quando invece a detta di Fraticelli avrebbe dovuto attivarsi per trovare una soluzione politica con la regione, e per l'amministrazione che troppo frettolosamente ha accettato il decreto ingiuntivo senza un'approfondita verifica. Orizzonte Comune si domanda perché l'amministrazione comunale ha abbandonato le famiglie nell'affrontare la spesa dei tamponi e delle mascherine per i ragazzi delle scuole. E perché non le ha sostenute economicamente, come stanno già facendo altri comuni della nostra provincia? In attesa dei prossimi provvedimenti governativi, continua Orizzonte Comune, in ordine alla gratuità dei tamponi e delle mascherine FF e PP2, per gli studenti sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale si impegnasse in convenzione con centri specializzati e con le due farmacie di Orte, affinché vengano resi gratuiti i tamponi e le mascherine FF e PP2 per gli studenti, così da dare una forma di aiuto e di sostegno economico alle famiglie degli studenti ortani, quantomeno quelli della scuola dell'obbligo. Riteniamo che questo sia il minimo essenziale per sostenere le famiglie in questo momento, sia di speranza in vista di una via di uscita dalla pandemia, che al tempo stesso di difficoltà, perché si sa che gli ultimi momenti sono i più impegnativi, sia sul piano emotivo che su quello economico. In questo modo si consentirebbe ai nostri giovani il corretto accesso alla scuola in completa sicurezza, senza gravare sul bilancio familiare. Confidiamo in una rapida azione amministrativa per dare un po' di respiro alle mamme e ai papà della nostra città. Giovedì 10 febbraio, dalle ore 10 alle ore 16, il camper vaccinale della ASL fa nuovamente tappa d'orte presso gli impianti sportivi. Sarà possibile effettuare la prenotazione al numero 0761 40 12 82, rispettando il seguente calendario. Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19. L'iniziativa organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale è realizzata al fine di favorire l'adesione alla campagna vaccinale e di sensibilizzare la popolazione, soprattutto in questo momento, in questo periodo in cui si sta assistendo ad un aumento di casi. Al tempo stesso l'ASL di Viterbo offre la possibilità, in un contesto di prossimità e in un momento epidemiologico di maggior rischio, di effettuare la prima dose di vaccino a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. È possibile aderire alla tappa vaccinale presentandosi presso la postazione mobile ASL che sarà posizionata in via del campo sportivo. Il vaccino utilizzato sarà moderna e potrà essere somministrato ai cittadini con età superiore ai 12 anni come prima dose. Per le seconde dosi verranno convocati negli hub dell'ASL e a tutti gli over 18 come terza dose. Abbiamo ospite in questa edizione del TG Magazine il presidente della Proloco di Orte, Giorgio Gianmaria, al quale do il benvenuto. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, come è andato questo periodo? Allora, direi che il periodo appena trascorso delle festività natalizie sia andato abbastanza bene, siamo abbastanza soddisfatti. Abbiamo cercato di creare un calendario il più ricco possibile, nonostante il periodo che stiamo vivendo, ma la popolazione ha risposto abbastanza bene. Tengo a ringraziare l'amministrazione comunale e tutti gli enti che hanno collaborato, i singoli cittadini, per sia abbellire il nostro centro storico che per la realizzazione di attività appunto di aggregazione. Direi che siamo abbastanza soddisfatti. Bene, ricordiamo quali erano le principali, diciamo, quali sono state le principali? Beh, abbiamo avuto il concerto in cattedrale, il concerto dell'orchestra, che è stato un evento di livello secondo me, tutte le proiezioni dedicate al festival Filoteo Alberini, le proiezioni del cortometraggio delle confraternite che credo abbiano avuto un successo abbastanza importante. Noi avevamo organizzato, c'era stata questa idea proprio per cercare di popolare il centro storico di questo concorso dei presepi che ha avuto molto successo, abbiamo avuto 18 partecipanti, non abbiamo potuto fare la premiazione il giorno dell'epifania per i motivi che tutti sappiamo, colgo l'occasione per comunicare i primi dei classificati che sono Luciano Maraga, Silvia Scinelli e Massimiliano Mattei. Poi avremo, spero, presto l'occasione per concludere e consegnare i premi e gli attestati. Piccola menzione per i fiori sul tufo, il gruppo Eneo Costituito col quale abbiamo collaborato con grossa soddisfazione e diciamo che l'intento era quello di abbellire i vicoli e il centro storico e dire che ci siamo riusciti. Abbiamo visto, abbiamo visto. Allora invece per quanto riguarda le attività diciamo in corso adesso, che cosa... Allora, il periodo è quello del carnevale ma abbiamo deciso di non organizzare nulla, vista la situazione non ci sembra il caso. Abbiamo partecipato, abbiamo pochi giorni fa presentato il progetto per il Bando 2022 Aspettando Sant'Egidio, evento che ha avuto molto successo lo scorso anno, il primo del nuovo corso della mia presidenza, il primo evento post-covid a Orte che credo non è stato di facile organizzazione ma siamo stati molto molto soddisfatti. Colgo l'occasione anche per ringraziare Marcello Balena che ha reso possibile più di altri... tutta la riuscita dell'evento. Bene, bene. E invece per quanto riguarda il tesseramento cosa si può fare? Il tesseramento è già aperto dal mese di gennaio fino al 28 di febbraio, la tessera Umpli 2022 ha un costo di 15 euro, la sede è aperta, scusate, la sede è aperta i quattro sabati di febbraio con gli orari e le modalità che abbiamo indicato sulla pagina Facebook. C'è anche il link per tutte le convenzioni con l'Umpli Lazio, quindi è consultabile. Bene. E auspichiamo in un tesseramento corposo perché poi credo che ognuno nel suo piccolo possa dare un contributo per la valorizzazione del territorio. Certamente. Allora salutiamo Giorgio Gianmaria, sicuramente avremo altre occasioni per incontrarci qui al TG Magazine. Con piacere. E continuiamo con il nostro notiziario. Lo sappiamo, martedì scorso nella zona degli impianti sportivi si sono tenuti i funerali di Claudio Guazzaroni. Apre e si è tutto la celebrazione il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Romano Rossi. Tanta commozione, tantissime le persone presenti. Vediamo le immagini. Claudio non sarà dimenticato. Questa è la volontà giusta e sacrosanta espressa da tutto il Consiglio Comunale che si era tenuto il giorno prima dei funerali. Una struttura sportiva sarà intitolata a quest'ortano che ha dato lustro alla città senza che questa gli ha riconosciuto abbastanza in tutti questi anni. Probabilmente non ha raccolto quanto mi ha meritato. E questa è una colpa che da parte dell'amministrazione mi sento di fare. Questo è il succo dell'intervento dell'assessore Gianfermo al termine della celebrazione religiosa. La cerimonia presieduta dal Vescovo Romano Rossi ha visto la presenza di numerosi gruppi sportivi delle varie armi e ovviamente dai ragazzi della sua società. Un palazzetto pieno di gente per rendere omaggio a un maestro più volte definito così da chi l'ha frequentato da vicino. Gli omaggi e ricordi fatti dagli atleti e dai massimi dirigenti della Federazione delle Arti Marziali hanno fatto emergere le grandi qualità di Claudio oltre che sportive anche umane. Abbiamo raccolto delle testimonianze. Sentiamo il vice sindaco Claudiani, il presidente della Filcam Domenico Falcone e la medaglia d'oro olimpica Luigi Busà. Senz'altro è un figlio di Orte, un figlio che ha dato tanto ad Orte. con i suoi successi in ambito sportivo sia come atleta che come allenatore. Devo dire che ciò che più mi ha colpito in questi giorni è stata la foto della vittoria alle Olimpiadi di Tokyo e l'immagine di Claudio, la sua commozione, proprio come quella di un padre che si commuove per il successo di un figlio. L'amministrazione comunale e tutti i cittadini vogliono stringersi intorno alla famiglia e vorrei dire ai familiari che sia loro di conforto l'esempio che Claudio ha dato nella sua vita, la passione che ha messo in tutto ciò che ha fatto e lo rimpiangeremo tutti. Presidente, qual è l'eredità che lascia Claudio? Una grande responsabilità nei confronti di tutti noi, nei confronti degli atleti, ma sono certo che stavo pensando queste cose appena ascoltavo alcuni interventi dopo la cerimonia. Grande responsabilità, ma sono certo che tutta la squadra, tutti noi dirigenti, tecnici sapranno portare avanti quei valori in cui credeva Claudio. Ha lasciato tanto non solo a livello di vittorie e di sport, ma anche come uomo, perché abbiamo sentito testimonianze che veramente hanno fatto capire chi era veramente l'uomo Claudio Guassaroni. Appunto, è quello che ho cercato di dire modestamente, ma con molta commozione, proprio quello che era Claudio. Una grande umanità e poi dagli atleti prendeva tanto, aveva tanto dagli atleti, quindi lui il karate è uno sport di combattimento, uno sport di coraggio, quindi lui usava spesso un'espressione che ci vuole la cazzimma, ci vuole quella grinta, gli occhi di tigre che ai suoi atleti questi occhi di tigre hanno avuto, fortunatamente, hanno avuto spesso. Quanto c'è stato di Claudio nella vittoria di Tokyo? Ho fatto pure dei post sui social, senza di lui non sarei riuscito, è stato fondamentale. Lì ho fatto capire tante cose, ha rifiutato il fatto che ho saputo della malattia, per lui esisteva solo le Olimpiadi e solo vincere la medaglia d'oro e io sono contento che insieme abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Quanto rimane di Claudio adesso all'atleta che affronterà anche altre gare? Mi mancherà tantissimo, mi mancherà non guardare i suoi occhi, mi rimarrà per sempre, ma non solo nello sport ma in tutta la mia vita. Mi ha seguito per 22 anni, sempre al mio angolo e quindi sarà difficile girarmi e non vederlo più, però lui non accettava di essere fragili, quindi saremo forti e spero di onorarlo ancora con altre vittorie. Ciao Claudio, subitaci. Sensei, re! E sabato 29 gennaio ad Ortescalo, presso la parrocchia dei Santi Giuseppe Marco, la chiesa di Sant'Antonio, si è tenuta una celebrazione preceduta dalla rescita del Santo Rosario per commemorare il cinquantesimo anniversario della morte di padre Geremia Subiaco, fondatore delle chiese di Ortescalo. Ha presieduto la celebrazione Don Mauro Pace ed hanno concelebrato il parroco di Ortescalo, Don Giovanni, Don Francesco Paglia, il parroco di Vallecorsa, città natale di padre Geremia e padre ausilio Tornambè, che negli anni passati sappiamo è stato parroco ad Ortescalo ed è stato presente, come anche lui stesso ha ricordato nella sua omelia, ai funerali di padre Geremia nel 1972, insieme a molti altri frati del convento di San Bernardino di Orte. Alla celebrazione hanno partecipato anche i sindaci dei comuni di Orte e di Vallecorsa e una rappresentanza della coalizione Uniamo Orte. Il ministro e alcuni fratelli dell'ordine francescano secolare della fraternità di Sant'Antonio e San Bernardino di Orte, Suor Fernanda e una rappresentanza della classe 1981 del Comitato dei festeggiamenti di Sant'Antonio. Al termine della celebrazione ha avuto luogo l'omaggio dell'autorità che, accompagnate dai parroci, hanno deposto i fiori alla tomba di padre Geremia. I cittadini di Vallecorsa poi hanno donato al parroco Don Giovanni un'immagine della Madonna della Sanità perché quest'anno ricorre proprio il centenario dell'incoronazione della Madonna della Sanità a Vallecorsa. Si è tenuta quindi all'ambone la presentazione del libro di Vittorio Ricci e Stefano Stefanini, il buon pastore e infine i saluti dei parroci. La cerimonia è stata molto commovente, i parrocchiani di Orte Scalo e di Vallecorsa saranno sempre grati a padre Geremia Subiaco, frate francescano e parroco costruttore che ha fondato le due comunità. E ora ci colleghiamo con il Trebimeteo così scopriamo le previsioni meteorologiche di questo fine settimana. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo, partiamo dal satellite che ci illustra un'Italia coperta a volta dalle nubi in questione tra pianura padana e regioni centrali. Difatti le correnti sono umide dal sud a sud ovest e dal Tirreno verso appunto il medio alto versante tirrenico anche con qualche goccia di pioggia nelle prossime ore. Andiamo a vedere quello che succederà però nella giornata di sabato, un weekend di variabilità al centro sud, nubi un po' più compatte sulle regioni centrali, non escludiamo domani qualche goccia di pioggia, qualche localizzato piovasco, nulla di che, più solo all'estremo sud e poi miglioramento al nord, nord ovest e Venezia con schierite sempre più ampie, quindi una giornata di sabato nel complesso bella qui. Andiamo a vedere poi quello che succederà domenica, una situazione di baltempo su gran parte del nord, versante adriatico e versante ionico, le nebbie che torneranno notte e tempo al mattino in Valpadana, mentre sulla parte tirrenica ancora qualche addensamento nuvoloso, irregolare, così come sulla Sardegna, con localizzati piovaschi. Un'occhiata anche alla nuova settimana che si preannuncia nel complesso stabile, segnaliamo solo lunedì e martedì un fronte freddo dalla Scandinavia diretto verso i Balcani, lambira il centro sud con l'arrivo di aria un po' fredda, altrove invece nulla da segnalare, proseguirà anche durante la prossima settimana questa fase mite al nord ovest per l'arrivo del Favonio e soprattutto l'assenza di precipitazioni con una siccità che perdurerà almeno fino a metà febbraio su tutte le nostre regioni del nord. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Termina qui questa edizione del TG Magazine, vi lascio come sempre all'appuntamento con fatti e commenti, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS